Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Firenze ci sono rallentamenti per lavori nel tratto compreso tra Firenzuola e Aglio. Sulla A11 le aree di servizio di Peretola Nord in direzione Pisa e Serra Valle Sud in direzione Firenze sono sprovviste di GPL per un guasto. Sulla FIPILI per lavori restringimento di carreggiata tra km 51 e 100 e km 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze chiuso per lavori lo svincolo di Poggi Bolsi Sud in uscita in direzione Firenze. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!